Disputantum è il contenitore per il dibattito di Senza Barcode. Qui è possibile parlare e confrontarsi su temi di politica e società, economia e ambiente, storie, cronaca e ancora molto altro. Conduce Sheila Bobba. In diretta siamo tornati con la web radio Senza Barcode e parliamo sempre qui da Piatta Cina al Christmas Village con una nuova amica. Siamo insieme a Stella Dissegni. Ciao Stella. Ciao, eccoci. Benvenuta con te, vogliamo fare una bella sciaccherata. Ciao con te. Abbiamo molto di cui discutere perché tu sei una di quelle persone che possiamo dire si è reinventata durante questo periodo di pandemia. Insomma, quando hai visto che le cose non giravano troppo bene, hai capito che dovevi trovare una soluzione. La tua svolta si chiama Stannum, Yves Rocher e Avon. Giusto. Stella è una consulente e una besta alle vendite con una gran passione per la vendita diretta. Diretta. Ci racconti un po' la tua storia? Sì, allora, io praticamente ho iniziato già ormai da tre anni questo mio percorso nella vendita diretta e mi piace proprio tanto aiutare la gente e consigliare al meglio i loro prodotti che possono usare sia per la casa che per l'igiene quotidiana, la cosmesi, eccetera. e poi soprattutto portare questi propri prodotti a casa direttamente che poi durante questo periodo di Covid è proprio un servizio, insomma, è proprio un aiuto in più, ecco. E questo mi gratifica, insomma, è questo sicuramente. Non è un lavoro facile, eh? No, assolutamente. Io quando ero molto più giovane di così sono stata una venditrice a Amway e Stannum, cioè a Riprodotti. La Stannum però l'ho sempre avuta vicina, conosco molto bene i prodotti, poi ne parleremo nel dettaglio, ma mi voglio fermare su di te. Sì. Su quello che fai. Sì. Perché entrare in casa delle persone non è facile. Tu hai gli occhi che sorridono, quindi sicuramente le persone ti accolgono volentieri. Sì. Ma come si rompia il ghiaccio? Eh, è un po' difficile, insomma. Sinceramente ci facciamo una chiacchierata al telefono, prima di tutto mi presento, eccetera. Poi cerco di capire le loro esigenze, cosa vogliono, eccetera. Poi quando si completa l'acquisto e ci incontriamo sia all'aperto o direttamente a casa e lì ci conosciamo. Magari facciamo anche una semplicissima chiacchierata fra amici, come stiamo facendo io e te adesso, insomma, proprio per non vedere le persone come clienti, ma come amici. Questo è molto importante, sì, perché una consulente, una venditrice diretta non può essere fredda. No. Deve conoscere il suo cliente, deve conoscere anche le sue esigenze. Sicuramente. Può capitare che tu capisci l'esigenza di cliente prima del cliente stesso? Sicuro, perché i prodotti li uso anch'io a casa. Cioè, ovvio, non è che le vendo tanto per... Cioè, io le uso in primis a casa e sia appunto per la pulizia della casa anche come igiene mia personale, uso anche per i miei bambini, quindi insomma, vengono prima testate da me e poi proposti e consigliati anche da gente direttamente. Ecco, parlaci anche dei prodotti che tratti. Sì. Come sono? Non ti posso dire sono buoni o no, perché non chiedo all'oste come il vino, ma soprattutto nell'ottica dell'igienizzazione e sanificazione dei locali. Beh, io sono veramente... rispecchiano questa necessità naturalmente, perché ci sono prodotti che più igienizzano, come alcuni prodotti della Stenom, oppure anche per i veroscefri, già per le mani, insomma, quindi anche queste case si stanno proprio avvicinando e stanno aumentando proprio i prodotti per via del Covid, proprio per venire contro le esigenze della gente. Oggi già in tante mani, profumato oppure no, anche magari dedicato, insomma, quindi non ci possiamo lamentare. Avete veramente un vasto catalogo. Io voglio ricordare però che tu hai un gruppo Facebook molto seguito, che forse in questo momento sta anche ascoltando questa direzza, quindi salutiamo anche gli amici del tuo gruppo, il meraviglioso mondo di stella. Sì. Vuol dire, racconti anche le cose che ti capitano oltre ai nuovi prodotti? Io racconto un po' di tutto, insomma, le nuove uscite, le offerte, che ce ne sono veramente tante, insomma, quindi magari anche le mie esperienze, foto dei miei prodotti mentre pulisco casa, le dirette, insomma, faccio un piccolo mondo dove starete benvenuti se ci cliccate e così entrerete appunto nel mio mondo, ecco. Nel mondo di stella che è anche un canale YouTube, bravissima, bravissima. però per chi non ha dimestichetta con i social, ricordo il numero. Potete chiamare stella di segni al 379 1426931. Lo ripeto, così perdete anche carta e penna. 379 1426931. Stella, in mano il tuo biglietto da visita, quanti colori? A me il mio mondo deve essere bello, colorato e allegro, insomma, perché mi piace, no. Raccontaci qualcosa di te, perché se ti vogliamo far entrare a casa nostra, vogliamo qualcosa in più. Chi è Stella? Chi sono? Sono una donna, semplicissima, di mezza età, vai. Una ragazzina, non credetele. Sono una mamma di due bambini, che ancora vanno a scuola, piccolini, e niente, insomma, ho tantissime passioni, tra cui proprio la vendita diretta, insomma. La vendita diretta. Qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato nel reinventarti in questo lavoro, che forse era anche diverso dal tuo? Sì, decisamente. La maggior difficoltà è superare le mie timidezze. Io sono timida di base e quindi ho dovuto superare tutte le mie timidezze. Questo fondamentalmente. Anche, per esempio, noterete, poi avrò, io ho anche un gruppo WhatsApp, spero che vorrete entrare, non vi trattasso di pubblicità. Io sono una persona molto discreta e nei miei clienti che mi conoscono da tanto, ve lo possono anche assicurare. proprio perché sono timida, cioè non mi piace trattassare persone di messaggi, pubblicità, eccetera, perché so che può dare fastidio, insomma. Ok. E quindi, io sono fatta così. Si immedesimi nei panni delle persone che sono amici prima che clienti, bravissima. Bello perché ci siamo capite. Toglimi la curiosità, esistono ancora le dimostrazioni con le amiche in casa? Certo, esistono, purtroppo nel periodo di Covid non si possono buffare, infatti non ho avuto neanche inviti, niente, però se le vogliamo fare all'aperto o al bar assolutamente all'aperto e contattatemi, ci mettiamo d'accordo e sono disponibilissima. Che bella cosa, può essere anche un modo per passare insieme un pomeriggio, insomma. Allora, Stella, se tu me la permetti ricordo di nuovo il tuo numero, 379-142-6931, così potete parlare con Stella. Senti, ma in questo momento che c'è il Natale ma anche questo tramardetto Covid, qual è il prodotto che non dovremmo farci mancare? Oddio, prodotti gel e genizzanti mani, per esempio, con la crema mani annesta, naturalmente. Perfetto. Le quali di Natale? L'ho fatti. No, no, ma cosa dovremmo proporre? Cosa possiamo introdurre? C'è tantissimo, insomma, può andare al make-up oppure anche questo sette, no? Proprio già il genizzante mani, più crema per le mani, ad esempio, insomma, quindi tante cose. Il make-up, parliamo di make-up in questo periodo, mascherine e make-up, come fare per non farci del male perché la nostra pelle magari non sta respirando? Eh beh, allora, sicuramente prodotti leggeri, io adesso uso per esempio una BB cream, qualcuno può essere anche semplicemente una fondotinta leggera, insomma, risaltare molto gli occhi, quello sì, e mettere anche un semplice basso per le labbra, tranquillamente nel... Per tenerle protette, idratate, e color di tendenza? Oddio, questo è... Faccio le domande ricchicili. Sì, prossima domanda. Prossima, beh, diciamo che il rosso va sempre bene, siamo a Natale, ok, ok. Qualche curiosità dal tuo gruppo Facebook, mi piacerebbe saperne di più. Ok. come si parlano le persone e come si contattano? Mi contattano, allora noi sinceramente io faccio lì appunto o dirette o presento i prodotti, le offerte, eccetera, e lì le persone mi commentano il post e poi io le contatto loro privatamente o telefonicamente o con il messaggero. sai tu direttamente che vai a loro nel momento in cui loro si palestano non è interessa. Certo, certo, non è che le vado a scrivere privatamente. Certo, ovvio, molto, molto, molto semplice anche da utilizzare e chi invece non ha i social ricorda il 379 1426931 dove sicuramente possono chiamarti e anche chiederti informazioni. Certo, quello sicuramente. Esistono dei campionari perché volete provare? Certo, ce l'ho già pronti dalla casa, dell'Avonib, del Rocher oppure per quanto riguarda i prodotti della casa le faccio io. Cioè, le compro io delle boccettine e inserisco il prodotto per la casa che sia un ammorbidente lavapalimenti ma poi lo direte voi e io lo preparo. Beh, quindi ci dai tutta la libertà di testare i prodotti? Certo, sicuro. quello in primis in senso che io infatti molto spesso le persone nuove che mi conoscono e anche i vecchi clienti che mi conoscono lascio sempre i campioncini per provare i prodotti. Che bella cosa così finalmente possiamo vedere anche quella famosa macchia che non vi dirla in nessun modo. Ad esempio? Ecco, ci mettiamo stella lì con i suoi prodotti e siamo sicuri di liberarcene. Sì. interessata alla tipologia del lavoro. Sì. Se gli ragazzi ora volessero trovandosi magari in difficoltà volessero avvicinarsi a questa attività come possono fare? Beh, mi possono contattare e poi io gli spiegherò tutto quanto e io quello che dico sempre avete di avere passione. Cioè, non vi avvicinate a questa attività tanto perché i guadagni semplici non esistono. Impegno, lavoro e passione. Non sapete quanto c'è io non è che il lavoro quanto lavoro c'è dietro perché bisogna stare dietro alle persone e ai clienti e tantissimo lavoro. Io per esempio me ne accorgo 12 ore della giornata 6 me ne vanno presso questo lavoro però 6 fatte bene. Certo. Cioè bisogna stare lì con attenzione e passione io dico sempre soprattutto passione perché se uno fa questo lavoro tanto per allora può starci a casa. Ma se tu domani mattina potresti ritornare al tuo lavoro ordinario lo faresti lasciando questa attività? No, non la lascerò mai. Io l'ho affiancato per diverso tempo e certo l'ho fatta un po' di superficialità e per alcuni aspetti è senza tralasciare mai il cliente però sempre fatta. Allora abbiamo la nostra consulente e venditrice privata diretta io vi ricordo stella di staccato segni per stanno mi brocet e avon al 379 1426931 ho tolto la mascherina per dire bene il numero ora la ripeto stella grazie di essere stata con noi io però voglio provarli quindi ho bisogno di risentirti per il campionario sicuramente stella tanti auguri buon natale grazie anche a te e un saluto agli amici del gruppo del mondo di stella ciao ciao disputantum è il contenitore per il dibattito di senza barco qui è possibile parlare confrontarsi su temi di politica e società economia e ambiente storie cronaca e ancora molto altro conduce Sheila Bobba